...dai un buono suo figlio e un genito che vuole la sua misericordia, ammelo. Chieso Cristo, che dall'altro ci ha esperato tutti a sé, vuole la sua salvezza. Lo Spirito Santo, che ci rende discepoli e testimoni di Cristo, vi doni la sua pace. E su tutti voi, ai quali San Francesco ha indicato oggi la strada della sequela di Cristo, scenda l'avvenzione di Dio Onnipotente. Padre, Dio e Spirito Santo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.